scopri un modo nuovo di catturare l'immagine più belle del mondo scoprilo con il terzo occhio l'occhio blu della olympus om 10 che legge la luce direttamente sulla pellicola al momento dello scatto e che non batte ciglio se la luce cambia perché reagisce in un 40 millesimo di secondo olympus om 10 automatica e manuale l'unica a fotografare in tempo reale per questo vi darà foto perfettamente esposte sempre olympus om 10 perché tre occhi vedono meglio di due